ciao a tutti Alessandro Stordimieli contro l'autunnale e guardate che bello one and where is the other here two queens in the same arnia era in roma frequenti in questa stagione una regina con già qualche anno vedete qui l'azzurra vedete azzurra e regina nuova 22 che se rimarrà ci auguriamo però poi la marcheremo poi in primavera adesso le lasciamo tranquille perciò raro ma in questa stagione succede in una certa percentuale le regine più vecchie riescono a fare nasce una nuova e rimangono entrambe vedete si tollerano per il momento poi primavera desiderano invece chi rimane solitamente la nuova pronta a portare avanti la famiglia vedete stanno anche raccogliendo qualcosa ormai gli ultimi raccolti poverine raccovata fortunatamente sì alcune hanno un po di uova ma molte sono già in blocco stupendo così faremo un bel trattamento di qui a un mesetto forse vedremo dai prima di natale caldo sta continuando poca acqua ma comunque siamo contenti due regine per festeggiare questo cos'è 18 20 ottobre ciao bellissima ben arrivata ciao alla casa delle bimbe ciao a tutte alessandro storie di mieli e le nostre api stupende fantastiche che bello che gioia che ci regalano